La Santuzza, così i palermitani chiamano affettuosamente Santa Rosalia la patrona della città di Palermo. Una statua della Santa è stata messa qui in un marciapiede, alla periferia della città, nella borgata marinara di Mondello. E non immaginerete mai perché. Da questa parte della strada ci sono dei cassonetti, che però non sono sufficienti a contenere tutta la spazzatura che viene smaltita, anche perché in zona non ce ne sono parecchi, quindi la maggior parte delle persone le vengono a buttare qua. Oltre all'immondizia buttano anche rami e mobili in disuso. Siccome per l'appunto i cassonetti non erano sufficienti da una parte della strada, hanno cominciato a mettere i rifiuti in eccesso anche dall'altra parte della strada. Siamo stati noi del vicinato più volte disturbati, sia da rumori che dall'odore, anche perché stando a Mondello comunque le ville sono all'aperto e in estate soprattutto si sente l'odore, è abbastanza forte. Ragion per cui abbiamo fatto diverse segnalazioni, tutte ignorate o perlomeno hanno messo dei cartelli, c'è un'area video sorvegliata ma la telecamera è sparita qualche anno fa, c'è un altro cartello di veto di discarica ma anche quello è stato ampiamente ignorato. Se non che qualche mese fa abbiamo visto lì all'angolo della strada una statuetta di Santa Rosalia che perlomeno ha permesso di non buttare più la spazzatura da questo lato della strada, l'altro con i cassonetti naturalmente ha continuato a rimanere quello che è, però la discarica è stata limitata a un angolo della strada perlomeno. Lei se ne era accorto che c'è la strada? No, non me ne era accorto. Però se ne era accorto che non c'è più la spazzatura a sinistra? Ho notato che era un pochettino in meno dall'usuale, qui tutto qua. Quindi magari il palermitano vedendo la santuzza non butta più la spazzatura? No, non ci penso. Secondo lei non ci pensa? È un caso diciamo? Sì, è un caso. Una competenza. Qui c'è storia di Santa Rosalia, qua prima c'era la storica dell'immondizia. Eh? Forse per non farci mettere l'immondizia qualcuno ci ha messo questa. Ma sapete chi è che l'ha messa? No, no, no. Secondo lei perché? Perché prima era pieno pieno di immondizia, arrivava durante mezzo alla strada. Non ho mai visto nessuna in effetti. Quindi non si sa chi l'abbia messa, però qualcuno l'ha messa e sicuramente la spazzatura lì non ce la buttano più. Certo, la pianta gliel'hanno messa pure, quindi non presumo che sia sempre la stessa persona, insomma, se la sta curando. Non so anche il titolo, certo, la devozione l'ha messa. È qualche mese che c'è. E sa chi l'ha messa? No, non l'ho visto. Io abito qui sopra, ho visto che prima c'era stata scaricata dell'immondizia e l'hanno messa qua. Poi l'hanno pulita e hanno messo questa stessa attacca. Diciamo che la statuetta è stervita nostra. Non ha fatto il miracolo di non buttare l'immondizia davanti là.